tifosi buongiorno questa settimana il campionato si ferma per via delle partite delle nazionali un po ti chiudi perché sospendono per una settimana il campionato vorresti vedere la tua squadra del cuore e soprattutto il fantacalcio però resistiamo per una settimana stiamo a guardare alla nazionale e magari se riusciamo commentiamo anche qualcosa su questa nazionale italiana volevo fare un video tirare cominciare già a tirare le somme su quello che ha fatto a juventus fino ad ora volevo anche parlare in particolare di cristiano ronaldo che alla fine quello che ha fatto domenica scorsa quando è stato sostituito sicuramente non è da prenderne esempio perché quando un giocatore non è in forma viene sostituito anche se ti chiami cristiano ronaldo ti siedi in panchina e stai zitto non che te ne vai negli spogliatori addirittura te ne vai via dallo stadio sì è vero non sei in forma e sono sicuro che cristiano ronaldo si riprenderà riprenderà la sua forma e ci sarà utile nelle prossime partite però o che ti chiami cristiano ronaldo che ti chiami miglione il messio robertule lewandowski non ti devi comportare così poi per quanto riguarda morizio sarri io lo dico apertamente io all'inizio quando trattavano con lui quando era arrivato ero piuttosto scettico come allenatore perché secondo me sarri non è da juve per via del carattere del suo stile insomma avrei preferito sì sarebbe stato un bellissimo sogno nel cassetto avere joseph guardiola che con lui sì c'erano più margini di possibilità per vincere questa maledetta champions league che ci manca mai da 26 anni se non sbaglio oppure tanti altri allenatori che potevano essere club ad esempio tuttavia comunque spero di essere smentito poi durante la stagione lo dico chiaramente spero di aver avuto un'impressione sbagliata ma in queste ultime partite già mi sta sta smentendo ciò che ho detto nei mesi precedenti va bene non è ancora uscito il bel gioco della juve questo è vero però comunque le scelte di formazione le scelte degli uomini giusti nel momento giusto per adesso li stanno dando dalla loro parte non state a dire che con questa juve stellare può pure allenare un allenatore come zeman o come malesani o come serse cosmi chiaramente non è da tutti un allenatore tirare fuori i coglioni e sostituire per due volte di fila uno spento cristiano ronaldo un serse cosmi un malesanio del neri non l'avrebbero fatto fidatevi e poi per quanto riguarda anche una scelta molto discussa tra i tifosi e anche di federico bernardeschi si lo so la terza stagione che è qui da noi dovrebbe ormai essere esploso diciamo diciamo che dovrebbe ormai essersi ambientato dovrebbe insomma fare comodo ormai alla squadra titolare secondo me i numeri ce li ha questo ragazzo secondo me questo ragazzo si è perso e si deve ritrovare e come cristiano ronaldo anche bernardeschi deve anche ritrovare la sua forma giusta io non voglio già condannarlo dargli l'argastolo a bernardeschi sento anche gente che dice come mai me lo mette ancora al primo minuto lo metti titolare al posto di quello quell'altro io sono uno di quei tifosi che non è che subito spara a mille a raffica io sono paziente fino a un certo punto però sono stato paziente con Allegri gli altri anni sarò paziente anche con Sarri e anche con quelli che giocheranno assieme a noi aspettiamo e speriamo diamo ancora fiducia a bernardeschi bernardeschi l'unica cosa che si deve ritrovare si deve rifare e i momenti decisivi comunque sono nelle prossime giornate come si deve riprendere lui come si deve riprendere cristiano ronaldo poi un altro che dovrebbe inserirsi bene anche Rabiu preso parametro zero gli diamo 12 milioni di euro netti a stagione insomma ci ha puntato la Juve quindi aspettiamo anche questo ragazzo che cosa fa per adesso non ha fatto ha fatto tutt'altro che bene nelle prossime giornate vedremo se riuscirà a cambiare le redini del suo destino comunque io per adesso Sarri sta facendo un buon lavoro speriamo che questo gran bel gioco carcia champagne come ormai tutti i 180 milioni di tifosi del mondo stanno aspettando ormai da cinque anni arrivi e boh che dire adesso ci saranno le nazionali beh ci guarderemo quelle questa settimana voi iscrivetevi al nostro canale il PJ Shove oltre a parlare di calcio soprattutto di Juve perché noi siamo gobbi sfegatati facciamo anche video divertenti io e tutti gli altri miei colleghi vabbè ciao ragazzi io mi preparo per andare al lavoro arrivederci buona giornata